E' ora di dire basta alle cose inutili Quindi oggi ho avuto la brillantissima idea di buttar via tutte le cose che non uso più Ma io tengo le carte dal 93 ma cosa me ne faccio? E questa Marco mi ricordo dove l'ho preso Pure è umido E questi? Via Ehi pupi, senti sto cercando il mio maglione Ti ricordi quello di lana blu che ti avevo prestato ancora vent'anni fa? Quello che era di mia nonna dai che me l'ha donato in punto di morte Che ha isolato l'ultimo respiro, si è asciugato la fronte e poi me l'ha donato ed è morta Quello che io ho un attaccamento emotivo gigantesco Infatti mi sono dimenticata per vent'anni ma me lo sono ricordato adesso Non è che me lo potresti ridare? Guarda tesoro grandissime notizie abbiamo deciso che il ruolo è tuo Ci sei piaciuta tantissimo, sei bravissima L'unica cosa che ti chiedo è questa Ci servirebbero i pantaloni questi qua delle tue foto targate un po' anni 90 Questi qua slavati brutti che non metterei neanche per andare a pulire i cessi Ce li puoi portare per favore che ci servono assolutamente per delle scene importantissime In realtà li ho buttati questa mattina Allora guarda mi dispiace ma il ruolo lo dobbiamo dare a qualcun altro Perché noi ti abbiamo preso solo per quei pantaloni lì capito? Scusami Mi chiamate per favore l'altra attrice con la sepoltà in casa Quella che non riesce a uscire perché c'è troppa roba Dai tesoro su sarà per la prossima Non buttare più via niente Non buttare più via niente